Grazie Presidente, devo dire intervengo la seconda volta sullo stesso argomento perché pensavo di essere stato abbastanza chiaro, mi pare di capire dall'intervento della Consigliera Abbaio che forse non è così. Allora diciamo innanzitutto una cosa, se la Consigliera Abbaio ha visto le convocazioni delle commissioni dovrebbe sapere che c'è una congiunta bilancio ambiente programmata per il 7 di dicembre proprio su questo argomento bilancio industriale e scusate il bilancio e il piano industriale di Ama. Per cui molto presto ci saranno delle novità su questo argomento che potranno essere esplicitate nell'organo che è normale nel quale vengono esplicitate che è la commissione. Allora noi non è che nascondiamo le difficoltà nella gestione di Ama. Però c'è da dire una cosa che lo devo ripetere più volte perché a quanto pare il concetto non passa. Il problema dei 18 milioni dei servizi cimiteriali è stato l'apertura di un vaso di Pandora e ha fatto vedere che sotto c'erano tutta una serie di problemi nei bilanci di Ama enormi sui quali sta indagando la magistratura, sui quali ci stiamo facendo carico di risolvere. Oggettivamente ci stiamo mettendo un tempo ampio ma perché proprio i problemi sono complessi da dover gestire. Non vedo da dove la consigliera Baglio possa poter dire che questa amministrazione sta facendo fallire ATAC, una cosa veramente fuori misura quella che viene detta perché c'è stata lasciata una società partecipata con un miliardo e trecento milioni di debiti, praticamente fallita, fallita, detta poi anche da chi ha una certa responsabilità sui bilanci del passato, soprattutto per quanto riguarda la gestione commissariale, insomma la dice anche un po' lunga. Invece questa amministrazione con coraggio ha intrapreso la strada del concordato preventivo in continuità, tutti ci dicevano che quella era una strada non percorribile, che noi l'avremmo mai fatta e invece ha avuto il voto positivo dei soci, ha avuto il parere positivo del tribunale. È ovvio che noi, pensate che noi abbiamo portato i libri in tribunale per la procedura fallimentare, di risanamento ma fallimentare, a settembre del 2017. Fino a gennaio 2019 sostanzialmente ATAC è stata messa sotto un controllo di un magistrato e non si poteva acquistare una vite dentro ATAC se non veniva autorizzata da un magistrato. Dopo che è stato approvato il concordato preventivo in continuità, da allora è stato possibile rilanciare, innanzitutto è stato presentato un piano di risanamento della società, come ho detto votato positivamente dai creditori e valutato positivamente anche dal tribunale e da lì è partito l'acquisto degli autobus, che sono arrivati i primi autobus nuovi, prima ne sono arrivati 150 che lo dovrebbe sapere la consigliera Baglio, venivano proprio dall'amministrazione precedente, ma era un bando complicatissimo che alla fine abbiamo dovuto anche lì lavorare per cercare di risolvere tutti i problemi di quel bando e sono stati messi in strada 150 autobus e dopodiché a quel punto con il concordato preventivo in continuità è stato possibile acquistare gli autobus, i primi autobus nuovi sono iniziati a circolare praticamente a novembre 2019. Casualmente purtroppo c'è stato questo problema della pandemia mondiale che è scoppiata sostanzialmente l'8 marzo del 2020 e noi abbiamo avuto un problema molto serio di mancata bigliettazione, c'è stato un abbattimento delle entrate da bigliettazione del 92%, è ovvio che le difficoltà ci sono, ma questa amministrazione su Atac ha fatto un lavoro straordinario, straordinario mantenendo pubblica una società e salvando dal disastro del passato. Forse meno bene abbiamo lavorato su Ama, ma adesso probabilmente ci saranno delle novità e si sta cercando di dare quell'accelerazione sui bilanci di Ama per risolvere i problemi di questa società. Oggettivamente ci sono dei problemi con Ama che sono riscontrabili, è vero, non è che ci si vuole nascondere dietro un filo d'erba a dire che non esistono i problemi, ci mancherebbe altro, perché i problemi ci sono e sono enormi, ma noi abbiamo sempre detto che la pulizia parte dai conti, perché se quando hai fatto pulizia dai conti allora parte il risanamento. Purtroppo con Ama ci abbiamo messo un po' di tempo in più, però io vedo che ci stiamo indirizzando sulla strada giusta e per cui è possibile che arriveremo finalmente ad approvare i bilanci di Ama che non erano approvabili per le difficoltà che abbiamo lungamente parlato. Abbiamo fatto, lo ridico, nel piano economico e finanziario questo investimento su Ama spostando dei crediti inesigibili a moneta sonante che verrà restituita in quattro anni, ma comunque moneta sonante, per cui si sta cercando di mettere in campo tutte le azioni possibili e immaginabili per cercare di risolvere una situazione che è oggettivamente difficile e ad oggi ha manifestato tutte le sue criticità. Per cui presto ci sarà questa commissione e a questo punto io consegno all'Aula il voto di astensione a questo ordine del giorno da parte del gruppo di maggioranza del Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie a lei consigliere.